Davanti ai robot ci dividiamo, c'è chi li ama e gli darebbe in mano il proprio figlio o il proprio animale domestico, c'è invece chi li odia e ha paura, spera che non arrivino veramente mai. Caffettino estate! Super puntata questa, buongiorno, benvenuta, benvenuto, sono Mario Moroni e sono qui in questo caffettino estivo, variante estiva, anche se in questo periodo variante è una brutta parola, del nostro appuntamento quotidiano davanti tutto l'anno, ma ad agosto in questi 20 giorni sto ragionando con voi non di notizie dell'ultimo minuto, non di breaking news, ma di tematiche che in qualche maniera hanno bisogno di un po' più di tempo. Poi settimana prossima ritorniamo sulle news, oggi vorrei parlare di robot, perché? Perché è un argomento importante, perché? Perché Elon Musk ha appena lanciato settimana scorsa la propria versione di robot di Tesla, e perché in qualche maniera ricevendo tanti feedback online da Instagram, lo stesso Telegram, Facebook e vi dicendo, tante persone li vedo in maniera molto determinata polarizzati, cioè divisi in quelli che amano questa tipologia di approccio, questi nuovi strumenti e chi invece li odia e vorrebbe mai averli in casa. Il 2022 sarà sicuramente l'anno del Tesla Bot, il robot pensato, realizzato da Elon Musk e dal team appunto di Tesla, quindi bisogna cominciare a ragionarci ora, a fine del 2021, che in realtà non ci sarà solamente il buon Elon, ma arriveranno tanti altri a produrre dei sistemi simili a questi robot, simili a quelli che abbiamo visto nei film di fantascienza. Sono arrivati tantissimi feedback, l'altro giorno ho fatto una stories su Instagram in cui chiedevo, ragazzi, ma cosa vorreste fargli fare a questo robot se l'aveste in casa? E chi mi ha risposto? Delle cose abbastanza comuni che anch'io assolutamente seguo, seguirei, ovvero fargli fare la spesa, o fare trasportare, pulire casa, fare dei piccoli lavori domestici, cioè tutte cose che in qualche maniera sono verosimili a quello che accadrà, e chi invece in privato mi diceva legittimamente, spero che non arrivino mai queste sembianze umane, umanoidi appunto, sono preoccupanti, dove andremo a finire, e ma i bambini come potranno percepirlo, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui volevo fare un punto della situazione su questo, partendo dai bambini. Entriamo in un ristorante, in un qualsiasi fast food, in qualsiasi esercizio, hai contatto con il pubblico, se c'è un tavolo di famiglia, e sono in due o tre i figli, o anche uno solo, molto spesso c'è un dispositivo, c'è uno smartphone, c'è un iPad, pensate a quello che avete potuto vedere quest'estate in giro per l'Italia, se siete andati in vacanza. Bene, quel dispositivo non c'era fino a qualche tempo fa, no? E quindi è un dispositivo tra la persona, bambino, e i propri genitori, altre persone. E quindi questo tendenzialmente potrebbe essere un ulteriore filtro. Prima ancora di questo c'erano i giornali, se andate a rivedere quando uscirono i quotidiani, l'opinione pubblica lo avvertiva in maniera polarizzata. Che figata, avere informazioni giornalmente, dall'altra parte, caspita, le persone non parleranno più con gli altri. E poi sull'utilità, il robot, l'informazione, diciamo così, robotica, quella tipologia di informazione umanoide, arriva a noi umanoide perché abbiamo visto una quantità di film incredibili sulla fantascienza e sul futuro, ma invece i bambini potrebbero arrivare in maniera diversa. E se ad oggi chiedo ad Alexa o al mio assistente vocale un qualche cosa, io ho un bambino piccolo, sicuramente ormai anche questa voce è diventata una sorta di umanoide, di personalità. La paura è la sostituzione dell'essere umano. Questo l'ho capito, per il lavoro abbiamo parlato più volte, ma è già, sta già accadendo, sta già funzionando, che siano umanoidi o software, questo sta accadendo per quasi tutti i lavori, diventerà così per tutti i lavori, ma da un certo punto di vista non era mai entrato in casa, se non con appunto i citati assistenti vocali. Arriverà, io vedo questa polarizzazione tra persone molto aperte, forse troppo aperte al futuro, e dannatamente chiuse, sperando che appunto le auto funzionino ancora a benzina, combustibile e fossile, invece stiamo già parlando delle macchine volanti dal punto di vista dei robot. Insomma è chiaro che c'è tempo, perché Elon Musk come sempre provoca e cerca di andare avanti, cerca di dare un po' di cibo agli investitori per continuare a investire, ma siamo lì, come è stato per la Tesla, per l'automobile, ci è voluto più tempo rispetto a quello che aveva in qualche maniera dichiarato Elon, arriveranno anche i robot, magari inizialmente saranno impiegati solo nelle fabbriche per spostare, come detto, delle cose pesanti o fare dei lavori pericolosi, ma attenzione a sottovalutare il fatto che sia una questione di opinione, non è un'opinione, è solamente purtroppo per alcuni la realtà. Quale consiglio posso dare a chi oggi ha paura di perdere lavoro o ha paura in generale di questa innovazione di questi robot? Beh, è quello che do tendenzialmente a tutti quelli che entrano nel mondo del lavoro o che stanno cambiando lavoro. Primo, trova una cosa su cui tu sei molto bravo, in cui hai delle abilità concrete, verificate e riconosciute. Due, un po' anche ti piaccia e tre, che sia dannatamente umano. La citazione di oggi arriva direttamente da Futurama, il cartone animato. Noi robot non possiamo provare emozioni e questo mi rende molto triste. Questa era un'altra puntata del Caffettino Estate, questa settimana la chiudiamo, per cui aspetto i vostri consigli, suggerimenti, opinioni, eccetera, eccetera, i vostri commenti. Noi ci sentiamo come sempre, domani mattina, ore 7.30, sempre qui al podcast del Caffettino. Io sono Mario Moroni e vi auguro una buona giornata.